Ciao a tutti carichissimi, io sono Matteo Agostini e benvenuti in questo nuovo video. Dopo aver analizzato la tier list dal punto di vista competitivo sugli starter di ogni generazione, oggi è il momento di andare ad analizzare una tier list, secondo me, su tutti i Pokémon leggendari all'interno del mondo Pokémon. E attenzione, sto parlando di Pokémon leggendari, non Pokémon misteriosi, che sono una categoria a parte. Vedasi ad esempio Mew, Shaman, Girashi, Darkrai, Arceus, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quei Pokémon lì non sono utilizzabili a livello competitivo, per cui non ne farò ovviamente una tier list. Parlo dei Pokémon leggendari, dei cosiddetti restricted, nonché anche conosciuti come Uber. Ma non c'è tempo da perdere, andiamo. Eccoci qui carichissimi, questa è la tier list che si andrà a comporre dalla S alla F, ovviamente, in ordine decrescente. Questo significa che la S rappresenta appunto il voto più alto che andrò a dare, mentre la F ovviamente il voto più basso. Abbiamo come vedete una serie di Pokémon leggendari, cosiddetti Uber, all'interno dei formati competitivi. Andrò quindi ora a stilarne per ognuno una tier adeguata, secondo il mio parere. Vi ricordo di utilizzare la sezione commenti in modo educato e costruttivo, in modo tale appunto da aver tutte le vostre opinioni e tutti i vostri pareri concordanti o discordanti. Ma ora partiamo. Partiamo proprio da Mewtwo, Pokémon iconico di prima generazione e come appunto potete vedere i Pokémon sono numerati a seconda della loro generazione, dalla prima all'ottava. Mewtwo è un Pokémon interessante, anche se non ha trovato granché spazio a livello competitivo durante appunto tutti questi anni. In particolare mi ricordo il 2016, che fu un anno particolarmente fortunato per Mewtwo, se vogliamo intendere fortunato come termine di poca usage, anche perché è riuscito diciamo in quel periodo lì a ritagliarsi una nicchia e ad ottenere degli ottimi risultati. Credo comunque che Mewtwo per la sua tipologia psicopuro non sia così tanto giocato e non sia così tanto spammato. Insomma, si preferisce tanti, tantissimi Uber, anzi che Mewtwo vedasi per l'appunto Kyrex Shadow Rider o per l'appunto Iveltal, che lo va completamente a wallare. Insomma, diventa difficile per Mewtwo trovare spazio all'interno di un meta Uber con così tanti Pokémon che vanno a ceccarlo. Ecco quindi che dal mio punto di vista, anche vedendo i metagame passati, penso che Mewtwo possa tranquillamente comunque meritarsi una TRD appunto data dalla nicchia che è riuscito a trovare e con la quale appunto ha raggiunto però buoni risultati. Ma, insomma, niente di più alto. TRD. Abbiamo poi Lugia. Lugia è un Pokémon che è riuscito a ritagliarsi anche esso, una sua nicchia durante il VGC 19, in particolare in Moon Series. Se non vado errato, si utilizzava per l'appunto con la Zeta Volante, che successivamente vi garantiva dei crit importanti di Aeroblast. Ecco perché Lugia veniva utilizzato e poteva comunque trovare spazio in alcuni team grazie alla sua abilità peculiare Multiscale, che dimezzava i danni chiaramente una volta che tale Pokémon fosse a vita piena. Ecco perché Lugia è comunque un Pokémon interessante, ma che non ha trovato e che non può trovare spazio per l'appunto con la presenza di troppi più Uber migliori di lui. Vale un po' il solito discorso per Mewtwo, più o meno. Ecco perché in generale, tra tutti, lo andrei a piazzare esattamente nella stessa tier di Mewtwo. Tier D anche per Lugia e... Mi dispiace, amico mio, niente di più. Abbiamo poi... Ohoho! Allora, questo è un Pokémon sicuramente buono. Un Pokémon buono, da una difesa speciale estremamente alta, e questo sicuramente ha giovato alla usage dello stesso. Una buona tipologia Fire Flying, che però subisce una 4x da Rock, che insomma non è proprio ottimale, anche se ovviamente nei meta Uber in particolare mi viene in mente Xerneas, riusciva bene a gestirlo in virtù della sua resistenza e della sua difesa speciale appunto particolarmente elevata. Sacred Fire sicuramente una mossa fantastica, che vi regala un 50% di burn. Statistiche comunque buone, una Tailwind da sfruttare. Insomma, il modo di giocare Oho c'è sempre stato. Anche se con il Meta-Dynamax durante queste series si è visto solo in parte, non è mai stato così particolarmente incisivo, ma credo che comunque un gradino sopra Mewtwo e Lugia se lo possa assolutamente meritare, senza ombra di dubbio. Ecco perché, dal mio punto di vista, Mewtwo va in Tier C. Passiamo ora a uno dei miei Uber preferiti. E, attenzione, questo non vuol dire che io lo classificherò alto perché è uno dei miei Uber preferiti, ma lo classificherò alto sicuramente perché è forte, ragazzi, ma veramente, veramente forte. Chiogre, gran bel Pokémon, statistiche pazzesche, un Water type puro e sappiamo quanto la tipologia Water sia importante a livello competitivo e possa far bene. Ottima coverage, Ice, Electro, una mossa da 150 spread come Water Spout infallibile, con un Pokémon del genere che ha un attacco speciale enormemente alto per non parlare di quando fa la sua Primal Reversion e diventa Primal Chiogre. 180 di attacco speciale base, ripeto, 180 di attacco speciale base, pazzesco. Veramente un gran bel Pokémon, Chiogre credo che sia uno dei Pokémon che nei formati Uber è stato estremamente centralizzante. Si è esso stato appunto in 16, dove veniva giocato doppio Uber, in 19 mi viene in mente appunto con Tornogre che il sottoscritto ha creato e sono ovviamente contento di averlo valorizzato così tanto all'interno di quel meta, o che sia esso comunque in Dynamax, è diventato veramente importantissimo. Per me Chiogre nei meta Uber vale assolutamente una S-tier, senza ombra di dubbio. Presentissimo. Volevo dire carichissimo, però ci stava bene anche presentissimo. Abbiamo poi Grodon. Allora, l'antagonista ovviamente di Chiogre, Larch Sunlight contro il Primordial Sea. Sicuramente Grodon anch'esso è stato uno dei Pokémon più spammati all'interno dei meta Uber. Mi viene in mente in 16, il suo compagno peculiare ovviamente Raxernas, quanti Xerdon abbiamo visto in 16, veramente tantissimi. Tanti Xerdon comunque anche in 19, Grodon in realtà un Pokémon in Dynamax ha forse un pelino meno utilizzato di Chiogre, ma è uscito prepotentemente poi con Sun. Credo che anch'esso sia un Pokémon veramente centralizzante, veramente importante. All'interno di ogni meta Uber competitivo, ecco perché Grodon secondo me sta esattamente al pari di Chiogre. Entrambi vengono giocati moltissimo, magari qualcuno viene giocato più in qualche formato, mi viene in mente Grodon magari in 16, oppure Chiogre però viene giocato più in Dynamax, insomma c'è sempre quella minima differenza che però si va a compensare tra i due. Ecco perché secondo me gli antagonisti devono stare esattamente sullo stesso livello, Grodon S-Tier dal mio punto di vista. Abbiamo poi Raikwaza. Raikwaza è un Pokémon particolare, nel senso che credo che non sia ai livelli di Grodon e Chiogre. I meta passati comunque l'hanno dimostrato, se non per la forma di ovviamente Mega Raikwaza, non c'è mai stato una vera e propria potenza da parte di Raikwaza. Si possa vedere ad esempio nel meta Uber Dynamax, dove praticamente era quasi inesistente. In 16 e in 19 è stato utilizzato, senza Mega ripeto praticamente mai, con la Mega spesso si è visto, in 16 tra l'altro ovviamente ha anche vinto il Mondiale, ma che comunque non era secondo me ai livelli di Chiogre o Grodon. Si poteva vedere magari un qualche cosa con Raikwaza Xerneas, Raikwaza Chiogre per l'appunto, Raikwaza, ma insomma secondo me non c'era una presenza talmente importante in 16, in 19 e soprattutto in Dynamax, tale da potersi paragonare ai suoi cugini Chiogre e Grodon. Ecco perché secondo me Raikwaza si merita sicuramente una tier altissima, ma non la più alta, per cui Raikwaza dal mio punto di vista tier A. Dialga e Palkia, voglio analizzarli insieme questi due, perché i cugini di Sinnoh dal mio punto di vista sono estremamente stati un po' underrated nei meta precedenti, nel senso che potevano far molto molto bene, c'era un solo grosso problema chiamato Grodon, che era estremamente fenomenale contro, in particolare Primal Grodon, ecco perché non venivano così tanto spammati, per non parlare ovviamente anche di Xerneas in combo con Grodon ad esempio in 16. In 19 più o meno stesso problema, si è visto qualcosina di più di Dialga e Palkia, ma non chissà quanti. La Dynamax invece è riuscita a valorizzare entrambi, ma che comunque non sono stati maggiori in usage né di Grodon né di Chiogre. Ecco perché credo che comunque nel pacchetto totale questi due Pokémon siano ovviamente inferiori rispetto a Chiogre e Grodon, ma anche rispetto a Rayquaza, per cui credo che B-tier sia la tier più appropriata per i cugini di Sinnoh. Vabbè, devo veramente valutare Ghiratina, lo metterò in tier E, ma proprio perché qualcuno ha provato a dargli una chance tier E entrambi. Rashiram e Zekrom. Rashiram e Zekrom, anch'essi secondo me sono Pokémon che la Dynamax ha valorizzato, ma che praticamente prima non dico che fossero inesistenti, ma quasi. Sicuramente un'abilità interessante, statistiche carine per essere Uber, però insomma tipologie non fantastiche e Uber troppo migliori, che andavano a dargli estremamente fastidio. Vedasi per l'appunto Grodon e Xerneas precedentemente citati. Ecco perché credo che siano nel complesso dei Pokémon giocabili, perché no in qualche team, ma sicuramente non credo che siano le top choice competitive per quanto riguarda i formati Uber. Tier C a livello di OO, in generale tra 16, 19 e Meta Dynamax, dal mio punto di vista possono starci, per cui piazziamoli lì. Abbiamo poi Kyurem Black, un Pokémon che credo di aver visto letteralmente tre volte all'interno della mia esperienza competitiva. È un Pokémon che non ha trovato mai granché spazio all'interno di nessun formato competitivo Uber e credo quindi che qualcuno gli possa aver dato una chance, ma veramente poca, pochissima roba. Lo metterò in tier E al pari di Ghiratina. Kyurem White. Ecco, questo invece, a differenza di suo fratello, è molto migliore dal mio punto di vista. È un Pokémon che in qualche caso si è visto, non diciamo una presenza così costante, ma in Dynamax in particolare qualche cosa si è visto. Io stesso l'ho giocato all'interno della Grand Finals del Victory Road, mi ha regalato una bella top 8, per cui credo inoltre che sia stato anche un Pokémon un pelino underrated. Ovviamente deve essere giocato nel modo giusto con il suo team particolare, ma che sicuramente non è da buttare. In tutta la sua storia competitiva, credo quindi che Kyurem in qualche caso, anzi più di un caso, è stato visto. L'abilità è buona, le stats sono buone. La tipologia, diciamo, non è fantastica, ha tante debolezze, che comunque possono essere compensate da un attacco speciale estremamente alto. Credo che quindi possa essere collocato, dal mio punto di vista, sicuramente alla pari di Reshiram e Zekrom. Ecco quindi che lo andrò a piazzare sicuramente in tier C. Insomma, tier C alta, B bassa, non essendoci una B bassa, C alta, lo piazzerò in tier C. Vabbè, questo si commenta da solo, dai, tier F. Ma sapete che prima di analizzare Xernia se stavo riguardando Hoho? Credo che comunque possa tranquillamente meritarsi una tier B. Insomma, comunque si è visto spesso. Ha un'ottima abilità, un'ottima difesa speciale, delle ottime mosse offensive, a coverage, mosse di stato importanti. Credo che Hoho lo vado a spostare in tier B. Frena, frena, frena! Ricordati di lasciare un follow sulla mia pagina Instagram, Facebook, che si chiamano entrambe Matteo Agostini VGC, e soprattutto di seguirmi ogni giorno in live su Twitch, allo stesso nome ovviamente di Matteo Agostini VGC. Ti aspetto carichissimo. Ora possiamo passare a Xernia. In realtà c'è molto poco da dire su questo Pokémon. È un Pokémon completo, fantastico, favoloso, statistiche spettacolari, tipologia fairy pura, veramente, veramente forte. Vogliamo parlare di Geomancy, una mossa che gli regala più due in attacco speciale, più due in difesa speciale, più due in velocità, che unito allo strumento Power Herb, viene sostanzialmente fatto instant, nello stesso turno in cui si utilizza tale mossa. Devo dire che rispecchia veramente tutti i canoni, dal mio punto di vista, di bellezza e forza competitiva. Veramente un gran bel Pokémon, spammatissimo, in tutti i formati competitivi, in 16 e in 19, non ne parliamo, praticamente presente ovunque, e anche con la Dynamax, comunque si è visto in molti casi, chiaramente non come in 16 o in 19, perché la Dynamax comunque è andato un po' a penalizzarlo, soprattutto per la presenza di Zazian, non tanto la Dynamax, ma Zazian è stato il suo checker fondamentale, ma resta il fatto che Xerneas non può, non meritarsi dal mio punto di vista, la tier più alta, la S tier di tutti gli Uber, insieme a Chiogre e a Grodon. Abbiamo poi i Veltal, un Pokémon sicuramente che in 16 e 19 si vedeva, a Saltvest faceva assolutamente la sua sporca figura, l'iForb addirittura in qualche caso, Black Glasses, insomma c'erano veramente tanti, tantissimi oggetti da dargli, è un Pokémon con tanta coverage, delle ottime statistiche, Dark Flying, una buona tipologia, una mossa come Oblivion Wing, che gli va a fornire recovery, Snarl, Dark Pulse, Sucker Punch, Full Play, tante, tantissime mosse da potersi utilizzare, stabbate su questo Pokémon, è stato utilizzato, come vi dicevo in precedenza, in 16, in 19, non tantissimo, non quanto Xerneas, non quanto Grodon, non quanto Chiogre, sicuramente, ma che comunque anche in Meta Dynamax, in qualche sprazzo si è visto più di una volta, credo che la tier più meritata, per questo Pokémon, sia tra la A- e la B+, però non esistendo questa tier, andrò a conferire Iveltal, la tier A, perché non lo vedo comunque ai livelli di Dialga, Palkia e Hoho, ma lo vedo un gradino sopra, per cui Iveltal tier A, vabbè, tier F, Zygarde, allora questo Pokémon qua, ovviamente lo voglio valutare, comprendendo anche la forma 100%, quindi una volta che si attiva Power Construct, la sua abilità, questo è un Pokémon, che da quando è uscito e ha fatto la sua comparsa, a livello competitivo, si è giocato in più di qualche nicchia, direi, è stato veramente ottimale, in 19, con Fini, con tutto il supporto che forniva Fini, si è visto anche in qualche caso, ora in Meta Dynamax, non così spammato, ma comunque presente, è un Pokémon che dal mio punto di vista, si è giocato all'interno del team giusto, e giocato ovviamente anche in modo corretto, sia uno dei Pokémon più pericolosi, dei leggendari più pericolosi di sempre, ecco perché mi sento di metterlo in tier B, perché ha tanto potenziale questo Uber, ha veramente tanto, tanto potenziale, ma che comunque deve essere valorizzato, per cui tier B per Zygarde, vabbè, Cosmog e Cosmoem li metto in tier F, anche se con Cosmoem ci ho toppato una PC in Val D'Arno, per memare, e mi sono anche divertito, però insomma, sono sostanzialmente inutili, per cui tier F. Solgaleo, allora, questo è un Pokémon che in qualche caso, in 19 si è visto, non moltissimo, diciamo che la Dynamax l'ha estremamente valorizzato, Max Quake, Max Steel Spike, che gli andavano a boostare entrambe le difese, la Weakness Policy come oggetto, a boostarli l'attacco, l'abilità, Full Metal Body, quindi la stessa abilità di Metagross o di Dragapult, Clear Body, chiamata in un altro modo, che quindi previene il drop delle statistiche, quindi ad esempio, non può subire Intimidate, faceva sì che questo Pokémon potesse essere, veramente, veramente pericoloso. Se però volessimo considerare anche ciò che è stato in 19, è stato ben poca roba, insomma uno degli Uber non spammatissimi, era presente in qualche caso, ci mancherebbe, ma non è stato così centralizzante quanto nei formati Dynamax. Ecco quindi che credo che Solgaleo possa essere paragonato sostanzialmente a una tier B, vi dirò addirittura forse anche un pelino di meno, però la tier B è quella che gli si addice di più, per cui tier B per Solgaleo. Lunala, allora Lunala è un gran bel Pokémon, soprattutto in 19, in Sun Series si vedeva accanto a Lele, in Lunala Lele, nel quale veniva ad esempio affiancato a Xernias, quindi si dava ad esempio Psycap su Lunala, oppure in Lunogre, che era veramente buono, con Trick Room, e magari c'era un Chiogre lento. In Mun Series ancora si vedeva Lunala con la mossa Z, che era veramente spammatissimo. In quei sei mesi in particolare è stato veramente molto, molto giocato Lunala. Da lì in poi però, ben poca roba. In Ultra è abbastanza capitolato rispetto alle series precedenti, per non parlare della Dynamax, praticamente quasi totalmente sparito. Credo quindi che possa andare a classificarsi come il suo compagno di merende in Tier B. Necrozma Dusk Mane. Allora, questo è un Pokémon che in 19 ogni tanto si vedeva, e direi più di ogni tanto, sia in Ultra, perché per l'appunto diventava Ultra Necrozma, sia in Moon e in Sun, perché è giocato estremamente bulky, in grado di mettere Trick Room, e far veramente danni ingenti, ad esempio con la sua mossa Photon Geyser, oltre ovviamente ad un'ottima abilità. È un Pokémon che si è visto anche durante le series Dynamax, non così tanto spammato in chissà quale modo, anche se molto, molto presente, e sempre veramente fastidioso. Se dovessi tener conto della sola usage, della sola presenza all'interno del VGC 19, credo che personalmente lo andrei a mettere in Tier A. Considerando che comunque terrò conto anche della series Dynamax, e di quanto, tra virgolette, dal mio punto di vista, possa essere incidente all'interno di tale meta, probabilmente lo andrei a mettere in Tier B. Ecco quindi che lo andrei a posizionare, letteralmente, tra Tier A e Tier B, esattamente nel mezzo. Credo che sia un Pokémon che abbia avuto sempre un qualcosina di più. Vedi anche per la sua possibilità di diventare Ultra Necrozma, rispetto a tutti i Pokémon messi in Tier B. Ecco che mi sento quindi di valorizzare questo Necrozma in particolare, la forma Duskmane, in Tier A. Necrozma Dawn Wings. Beh, rispetto alla tipologia di Necrozma Duskmane, sicuramente questa è una tipologia peggiore. Non è mai stato così presente ed incidente all'interno dei metagame. Uber è sempre stato un Pokémon un po' marginale, si è visto in qualche caso, ma in veramente pochi, pochissimi casi. Ecco perché credo che comunque non sia ai livelli né di Mewtwo, né di Lugia, rispetto a quanto visto ai meta precedenti. Tier A. Penso che sia la sua Tier più adeguata. Vabbè, Fra, dai. Zacian. Da quando c'è questo Pokémon, devo dire che Xerneas, soprattutto in formati Dynamax, ha sofferto particolarmente. Un Pokémon veramente pazzesco, abilità spettacolare, che gli garantisce un più uno in attacco, ogni volta che fa il suo ingresso in campo, statistiche fenomenali, è veloce, è bulky, ha un attacco estremamente alto. Beh, non credo che ci sia molto da aggiungere, credo che sia un Pokémon che in qualsiasi formato Uber verrà utilizzato veramente, veramente tanto. Staremo a vedere nel caso del doppio Uber quanto sarà centralizzante, ma al momento in cui sto pubblicando questo video, vi posso garantire che dal mio punto di vista, Zacian è un Pokémon che si merita, senza ombra di dubbio, la Tier S. E vabbè, fra anche te come per Necroz, ma ti meriti la stessa Tier. Zamasenta. Allora, questo è un Pokémon estremamente di support. Peccato, e devo dire peccato, che non gli abbiano dato Body Press, perché è un Pokémon che fa il suo ingresso in campo, con un'ottima statistica di difesa, gli si boosta la difesa di uno Stage, grazie alla sua abilità, e non gli date Body Press. Ecco quindi che credo che sia un Pokémon che può essere giocato in qualche caso, soprattutto da support, ma che non possa assolutamente fare la differenza rispetto a Zacian. Ecco quindi che Zamasenta, dal mio punto di vista, non può rappresentare, quantomeno al momento, uno dei Pokémon migliori del formato. Credo che la Tier D sia abbastanza generosa, ma che possa comunque rientrarci. Vabbè, anche lui stesso discorso. Eternatus. Allora, questo è un Pokémon che con la Series Dynamics si è visto poco, non moltissimo, è stato valorizzato in Series 10, dove la Dynamax non c'era, per l'appunto, ma è sempre una Series legata sostanzialmente al formato Spada e Scudo. È un Pokémon comunque da delle buone statistiche, un'ottima velocità, una mossa come Dynamax Cannon importantissima, tante mosse di coverage, una buona, se vogliamo, tipologia, che però comunque non gli ha permesso di far veramente la differenza all'interno dei formati Dynamax. Se dovessi valutare Eternatus per la sola Series 10, probabilmente sarebbe un Pokémon da Tier A. Credo che comunque Eternatus sia un Pokémon in generale per quanto visto e da quando presente, al di là della sola Series 10, da Tier C. Ecco quindi che credo che possa catalogarsi tra la Tier B e la Tier C alta. Ma anche qui, come ho già detto, probabilmente per convenzione andrò a metterlo in Tier B. Abbiamo infine i due Kalirex, Kalirex Ice e Kalirex Shadow Rider, ovviamente l'ultimo, anzi, spostiamolo subito, va? In Tier F. Kalirex Ice Rider è sicuramente un Pokémon fenomenale. È un Pokémon che ovviamente si sposa bene con la Trick Room ma che può essere utilizzato anche fuori da Trick Room in virtù di una velocità non troppo bassa. Un'ottima bulk fatta da ottimi HP, tante difese ma soprattutto un attacco veramente fenomenale. Con la Dynamax questo Pokémon diventa veramente estremamente forte e una mossa spreadata come Glacial Lens gli garantisce una usage sicuramente importante. Tuttavia, se vogliamo analizzare comunque la presenza all'interno di questo formato competitivo di questo Pokémon qua credo che sia un Pokémon un gradino sotto rispetto a Kalirex Shadow Rider. E non solo, rispetto a Raekwaza, Ivelta, le Necroz Malask Mane per la storia che hanno rappresentato all'interno dei meta Uber competitivi credo che comunque non sia a loro pari. Credo quindi che Kalirex Ice Rider possa essere una Tier B molto alta ma gli manca ancora quel piccolo salto di qualità per poter entrare all'interno della Tier A. quindi credo che Kalirex Ice Rider si meriti una bella B Tier assolutamente meritata. Abbiamo infine Kalirex Shadow Rider come detto in precedenza penso che sia veramente un gradino sopra rispetto a Kalirex Ice Rider. Veramente tanto spammato un Pokémon dalla velocità pazzesca un attacco speciale estremamente alto una mossa come Astral Barrage veramente fantastica sfrutta bene lo Psychic Terrain ad esempio di un Indidi messo accanto che redirecta le mosse grazie a Follow Me ovviamente occhio a una debolezza 4x al tipo Dark ma che comunque è bypassabile eventualmente da Pokémon di tipo Fight o Pokémon di tipo Feri all'interno del vostro team per cui provatelo giocatelo è un Pokémon che secondo me da quando è presente è stato veramente tanto utilizzato sia con la Dynamics che senza per cui credo che si possa assolutamente meritare una Tier A. Carichissimi abbiamo finito devo dire che è stato veramente bello poter valutare tutti i leggendari o meglio i Restricted nonché Uber all'interno di una Tier Lista generale per tutti i metagame competitivi quindi ho tenuto conto di tutti questi fattori spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace mi raccomando iscrivetevi vi aspetto su Instagram Facebook e Twitch al nome di Matteo Agostini VGC e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao a tutti carichissimi